C'è una cosa però da chiedere subito, ho visto alcune domande che pone proprio l'occasione. Potere e dominio sono una differenza, è importante. Potere indica la capacità di fare qualcosa, dominio indica il fatto che qualcosa viene fatto, è una differenza. Quindi psicologia del potere sarebbe stata tutta un'altra cosa, psicologia del potere, niente uno fa la relazione su Roosevelt, fa la relazione su Stalin, invece chi è dominio? Dominio è la gente, è diverso questa cosa qui, chi lo subisce? Potere è la potenzialità, la possibilità, il dominio è il fatto, è successo, è lì e non ti molla, ha fatto la gabbia e ti ha chiuso. Questo è il dominio. C'è un bel saggio di Tolstoi, del vecchio Tolstoi, Tolstoi vecchio, quello più pericoloso, quello che in Italia non era tradotto fino al 1989, pensate. Un terzo della produzione è un terzo della produzione di Tolstoi, non tradotto in Italia fino al 1989 perché è troppo pericoloso, impressionante. Quindi le biografie italiane di Tolstoi, per esempio quella di Citati, famosa, che vedete ancora nelle librerie, è fatta su due terzi dell'opera di Tolstoi. Manca un terzo che sono i suoi saggi terribili, popolarissimi prima della prima guerra mondiale, che hanno determinato un sacco di guai per i regimi del tempo. C'era una vignetta interessante su Le Figaro, Tolstoi, che si vedeva lo zar Nicola II piccolino così, spaventato che scappava, e Tolstoi enorme che voleva dargli una pacca sulla testa, per punirlo. Pensate che fama che aveva. Ecco, è un saggio del 1901 che si intitola Chi è la colpa? È un saggio di Chi è la colpa? No, il 1908 questo, ancora più tardo. Allora, il saggio comincia così. Era un periodo brutto per la Russia, perché c'era Nicola II che era quasi impazzito a quel tempo, e permetteva ai cosacchi di fare di tutto. Dai pogrom alle sciabolate durante le manifestazioni, pene di morte c'erano 7-8 al giorno. E Tolstoi fa un brevissimo elenco di 7-8 righe su quello che è terribile in Russia, eccetera, in quel periodo. Quante pene di morte ci sono al giorno? 9? 10? Quanta gente viene deportata? Quanta gente, e Tolstoi aveva fatto, contro le deportazioni forzate, che ha cominciato Nicola II a farle, sapete quali sono le deportazioni forzate? Allora, tutta una regione, tutta la popolazione di una regione viene presa e viene messa in fondo alla Siberia, in un posto che ha sempre l'isobara di gennaio totalmente negativa, cioè mai più un grado, non è tutto gennaio. Ecco, capitava le sette religiose, per esempio c'era una setta che si chiamava i Moloccagne, o i Dukobori. Moloccagne vuol dire bevitori di latte perché erano ultravegetariani. I Dukobori erano quelli che si rifiutavano di usare perfino i coltelli, cioè non bisogna usare armi. Questi qua, ritenuti pericolosi per la società russa, deportati in massa. E Trostoi, in quel periodo, arrabbiato contro questo, scrive un libro, ovvero smesso di scrivere romanzi, scrive Ressurrezione. Gli fanno dei contratti pazzeschi in tutto il mondo. Tutti i soldi che prende da Ressurrezione, Trostoi li usa per comprare una nave e un pezzo di Canada. Dopodiché manda i figli, i suoi figli, a raccogliere tutti i Dukobori lungo la strada della deportazione, li carica sulla nave nel Mar Nero e li porta in Canada, dove vivono ancora adesso i discendenti di questi, che appare ancora russo dalla fine dell'Ottocento, con Ressurrezione, cosa grandiosa. Naturalmente questo era un pericolo vivente, non potevano ammazzare, non potevano arrestare, era troppo famoso. In Italia di questo si è saputo pochissimo, tra l'altro, fino agli anni 90. Questo saggio di chi è la colpa dice le cose in Russia che vanno male. Di chi è la colpa? E tutti quanti dicono, dello zar, sicuramente. Dice, ma lo zar? Dice, io sono della corte, sono nobile russo di alta società. Lo zar è uno piccolino così, che gioca a tennis tutto il tempo, a tennis e a cricket. Scrive dei diari, lui la zarina segue Rasputin, non ne fiega niente di queste cose. Cosa vuoi che uno così domina 180 milioni di russi? Come fa? Allora, non è la colpa dello zar, la colpa è della corte. Sono 3.000 persone a corte che fanno tutti i maneggi dentro la corte, allora non c'erano le multinazionali. Fanno i maneggi dentro la corte e saranno loro. Ma io, dice, sono vissuto in mezzo a questi, fin da bambino. È gente che si fa gli affari suoi, che cerca dei vantaggi personali, ma anche piccoli pur di scampare. Sono tutti indebitati, si sono rovinati col gioco tutti quanti, bevono come delle spugne. Cosa volete che queste 2.000, 3.500 persone dominino 180 milioni di russi? Allora, la colpa è del governo, la colpa è del governo, della Duma, del Parlamento. Parlamento, tutto quanto l'ambiente, facciamo 7.000 persone, inclusi segretari, sottosegretari, usceri e tutto. Può darsi, dice Trostoi, però sono 7.000 e i russi sono 180 milioni. Come fanno questi 7.000 a imporre il loro dominio su 180 milioni di persone? Io non ho ancora capito questo. Dicono che esiste il potere. Trostoi ha sempre odiato questa parola. Dicono che esiste il potere. Cos'è sto potere? Nessuno l'ha mai definito. Napoleone che sposta 500.000 uomini dalla Francia alla Russia e ne muoiono 480.000. aveva un grande potere. Ma Napoleone, dice la storia, era un turacciolo spinto da una marea di francesi che, sapere perché, volevano andare in Russia e sono morti tutti lì. Il potere, dice, io non ci credo. A parte non credere al potere, però questi fisicamente cosa fanno? Vanno dal russo, gli dicono tu mi obbedisci, vanno dal mugique. Il mugique li uccide. Se non c'è nessuno che guarda, li mangia. Quindi non sono quei 3.000. Chi possono essere? Dice l'esercito. L'esercito, qui ragioniamo. Dice qui ragioniamo. 4 milioni di persone. Noi siamo l'esercito più potente del mondo. Diceva Tolstoy a quel tempo, era vero. Siamo l'esercito più potente del mondo. Siamo 4 milioni di persone. Dividiamo 180.000 diviso 4. Cioè 180 diviso 4. Qualcosa mi torna. Però che cos'è un esercito? È un insieme di soldati. Che cos'è un soldato? In che differenza c'è tra un soldato? Questo era il modo di ragionare di Tolstoy che è affascinantissimo. Perché sembra un bambino che gioca con il polottoliero. Che differenza c'è tra un soldato e un normal cittadino? Le armi. Il soldato ha le armi. Le ha comprate lui? No. Gliele ha pagate lo zar? No. Gliele ha pagate il governo? No. Gliele ha pagate la corte? No. Gliele ha pagate le tasse. Chi ha pagato le armi che fanno diventare un uomo un soldato? Fai un nome? No? È chiaro che sei tu. Perché le tasse le hai pagate tu. Tu perché paghi le tasse? È chiaro che questo libro qui non poteva uscire negli anni 30. Non poteva uscire negli anni 70. Non può uscire oggi. Capisci? Non può uscire oggi. Io l'ho fatto in 89 questo librone perché la gente si droga. Sono 800 pagine di saggi di Tolstoy. Era un periodo buono quello. 89. Poco poco prima di Berlusconi. Poco prima di Berlusconi. Lì è uscito. È andato molto bene. Sparito. E non lo ripulicano più. Perché è troppo pericoloso. Se tu metti una pagina di quel libro lì su internet, su Facebook, il giorno dopo ricevi una comunicazione della questura. Perché è un reatto. Capisci? Fare questo discorso qua è un reatto. Perché è una esortazione alla nazione a non rispettare una legge della nazione che paga le tasse. Grave, eh? Travi subito nei guai. Tolstoy poteva. A quel tempo si poteva. E l'idea è questa. Se tu paghi le tasse, perché le paghi? Cos'è che ti spinge a pagarle? La psicologia del dominio in realtà è tutta qua. Perché diceva bene Hobbes, diceva bene Galli, il dominio non è l'esercizio di un potente, è l'esercizio di un potente condizionato all'approvazione del suddito. Comunque. Anche la multinazionale può manipolarti finché vuole. Ma la multinazionale su cosa si regge? Sugli acquisti. E tu puoi smettere di comprare. Capisci? E nessuno ti obbliga di comprare. C'è un filosofo poi, il filosofo della libertà, interessantissimo, si chiama Sartre, che dice l'uomo è condannato a essere libero. Se è servo è perché ha scelto lui di essere servo. Perché potrebbe benissimo sempre scappare. Se poi si vede la differenza tra cosa e come, cosa sei un servo, ma come sei un servo, può darsi che il servo faccia il servo in un modo che non è affatto servo. Può darsi che il maggiordomo sappia più del Signore, e se ne intenda di più delle cose del Signore, che il Signore sia un festacchiotto, che il maggiordomo fa tutto, per esempio. Ecco, il problema del dominio, la psicologia del dominio, è sì la psicologia del potere, per una certa percentuale, ma è la psicologia dei dominati, per una certa percentuale. Giustamente, Tiziana dice, perché deve esistere il dominio sulla Terra? Ci sono due modi di affrontare la questione, nella storia dell'umanità. Due modi. Molto semplici. Primo modo, in base all'uomo com'è. Secondo modo, in base all'uomo come dovrebbe essere. Cambia tutto. Se tu ragioni in base all'uomo com'è, cioè gli uomini sono così, quindi possiamo vedere questo, questo e quest'altro, statistica, controstatistica, test, esperimenti, psicologia delle masse, vediamo le cose sono queste. Arrivedete a minate conclusioni. Poi c'è l'altro modo di ragionare, che è quello che naturalmente preferirei io. L'uomo come dovrebbe essere. Se valuti le cose in base a come l'uomo dovrebbe essere, i risultati a cui arrivi sono totalmente differenti. Nel primo caso sono risultati conciliatori. Vedi l'uomo com'è, dici, è che vuoi farci. Qualcuno deve purcomandarli. Vedi l'uomo come dovrebbe essere e cominci a ragionare e dici, aspetta un attimo, ma se l'uomo è nato per, se a me mi gira che l'uomo è nato per, e mi risulta perché lo sento io, il fatto che ci sia il dominio mi suona un po' meno interessante e meno logico che non in base al primo punto di vista. Sono questi due modi. Dipende quale preferite voi. Naturalmente non è che uno è migliore dell'altro. Poi la soluzione a cui voglio arrivare tra circa due minuti, tre minuti, è che vanno bene tutti e due contemporaneamente. Però ognuno di noi preferisce in determinati momenti della giornata un modo e in determinati momenti della giornata in altri un altro modo. È bene vedere, perché due volte che si pensa a qualcosa di interessante, oltre all'oggetto che stai pensando, è bene vedere il soggetto che ci pensa, cioè come ci stai pensando tu. Se sei di buon umore o se sei di cattivo umore ti cambia la storia del mondo, per intenderci. Ecco, provate voi a fare adesso un esamino interiore. Voi ragionate in base all'uomo com'è o in base all'uomo come dovrebbe essere? Poi vi faccio gli esempi. Facciamolo più facile. Renzi, secondo te. Che poi ne riparliamo. Sì, sì, uguale. È un condizionale. Come potrebbe essere, come dovrebbe essere. Renzi, secondo te, ragiona in base all'uomo com'è, è, agli uomini come sono, italiani come sono, o in base agli uomini come potrebbero, dovrebbero essere? In base a come sono. In base a come sono. E tu come ragioni? In certi momenti della giornata sono sicuro che tu ragioni in base all'uomo com'è. Cioè, quando c'è una persona in treno che parla a voce altissima, al telefonino, seduta accanto a te, e tu non riesci a fare una conversazione, tu dici, qui ci vorrebbe veramente qualcuno che riportasse l'ordine nella situazione. In base all'uomo com'è. E se il viaggio è lungo e questa non la smette, tu, vabbè, c'è il punto che cambi scompartimento. Però, intanto, cambi scompartimento, torni giù e sei tendenzialmente fascista. No? O stalinista, diciamo, senza arrivare a essere maoista. Però fino a Stalin ci arrivi. Se invece ragioni, magari ti sei appena fidanzato. No? E stavolta pensi è la volta buona. No? Ancora non avete mai litigato, va tutto benone, eccetera. Può darsi che... Hai mangiato? Verso le quattro di pomeriggio hai mangiato bene. Digerendo può darsi che tu pensi all'uomo come dovrebbe essere. I due ragionamenti ti portano e ti aprono due prospettive completamente diverse. Adesso, le due prospettive, come vi promettevo, sono complementari. Anche perché lo sono sempre. Cioè, anche il fascista più fascista dentro di sé ha una parte del suo cervello espressamente riservata ai sogni e ai desideri più audaci nella quale pensa l'uomo come dovrebbe essere. e da quel punto di vista guarda l'uomo com'è. E anche la persona più anarchica che ci possa essere a un certo punto si guarda intorno e oltre all'uomo come dovrebbe e potrebbe essere vede l'uomo com'è. No? E fa queste misure. Allora, è bene tenere sott'occhio tutte e due queste cose per capire per orientarsi nella psicologia del dominio che è in gran parte la psicologia dei dominati e delle possibilità che i dominati danno agli uomini che li dominano. Adesso, fatta questa prima precisazione, la psicologia del dominio, cioè il dominio, è naturalmente un fatto di libertà. Giusto? È un fatto di libertà. Se non ci fossero libertà non ci sarebbe il dominio. No? Se noi potessimo scegliere tra avere cinque braccia e averne due cambierebbe tutta la situazione. Ma noi abbiamo solamente la tina, quella che diceva. Non ci sono alternative. Allora, se c'è libertà tu hai il concetto di dominio. Se non ci fosse libertà tu non sapresti neanche che esiste il dominio. Probabilmente il lupo, animale da branco con forte spirito autoritario, salvo il lupo solitario, il lupo non ha un concetto di libertà. Ha un concetto di dominio che però per lui è naturale come respirare. Può darsi che la rondina e il moscerino abbiano invece un concetto di libertà interessante. Perché sono animali non da branco. Allora, libertà. Vediamo un po' questo elemento dal quale dipende il concetto di dominio. Cosa si intende per libertà? No? Prima, quando ti poni questa domanda la prima immagine che hai è una valanga di retorica, una muraglia di retorica, un magazzino, una rinascente di retorica sotto Natale. Ecco. In cui c'è dentro tutto quello che è scritto sulla prova libertà, eccetera, eccetera. però più ci pensi e più ti accorgi che questo concetto non è affatto semplice, il concetto di libertà. Letteralmente significa fare quello che ti piace. Quad Libet. Libet vuol dire che ti piace, no? In italiano il concetto di libertà è abbastanza fragile perché rimane sempre, indica sempre il magazzino. Ci sono lingue, prima si è chiamata in causa la Magna Carta, La Magna Carta, detta in italiano Magna Carta. La Magna Carta, no? La Magna Carta che è l'inizio della democrazia inglese, no? Ci sono lingue, per esempio, come l'inglese o il tedesco che hanno moltissime parole più dell'italiano, l'inglese in particolare, e hanno, pongono delle esigenze precise al parlante come noi, per esempio, cosa vuol dire pongono delle esigenze precise? Un'esigenza precisa che pone la lingua italiana è definire il sesso delle cose, no? Cioè, in italiano tu sei tenuto assolutamente a sapere se questo è un maschietto o è una femminuccia ed è un tavolo, un giovanotto. Questa qui, invece, è una signora perché è, quindi c'è una signora vicino a un giovanotto, la sedia vicino al tavolo. L'italiano ti pone senza, non c'è alternativa, devi dire il sesso delle cose. L'inglese no. L'inglese non ne frega niente di che sesso hanno le cose. Pensa, eh? Ecco, l'italiano non ti pone esigenze di chiarire il concetto di libertà. Si dice libertà è quella roba lì. Chiama libertà, se ci pensi sei nei guai perché dovrai gestire un sacco di problematiche. L'inglese ti pone, come l'italiano pone l'esigenza di finire il sesso e le cose, l'inglese ti pone l'esigenza di finire i due tipi di libertà principali, che sono liberty e freedom. Che differenza c'è tra queste due liberty e freedom? Non sono sinonimi. Non sono sinonimi. Sapete che in America c'è la statua della liberty che non è la statua della freedom. Chi è la statua della liberty? È Maria Maddalena naturalmente. Perché è Maria Maddalena? perché si ispira a tutta l'iconografia della Maddalena. Vedete che la Maddalena è il contrario della Maria di Nazareth. La Maria di Nazareth ha in braccio il ragazzino. Giusto? Sempre. Salvo quando il ragazzino è cresciuto. Per esempio a Lourdes si ammette che è cresciuto il ragazzo più che compare solo lei. Però nelle foto classiche la Madonna ha in braccio il ragazzino. Che cos'ha in braccio la Maddalena alias la statua della libertà? Un libro. ha in braccio un libro. In alcune versioni la Maddalena ha in braccio una coppa d'oro per la gioia degli studiosi del Graal. Libro e Graal sono la stessa cosa. Perché? Perché nel libro è contenuto tutto il distillato della sapienza che la Maddalena ha in testa e nella coppa è contenuto tutto il distillato del sangue real detto Graal. è lei che tiene questa cosa. Naturalmente lei nell'iconografia cattolica cristiana lei tiene in mano il libro. Una donna con un libro in mano era preoccupante nei primi secoli dal primo secolo fino al quinesimo secolo ancora nel settecento le donne ricche non sapevano leggere e scrivere in Inghilterra. Perché una con in mano un libro vuol dire io porto un mondo diverso. E ha in mano una fiaccola e guarda dritto verso occidente con aria non sorridente. Perché con aria non sorridente? Perché l'America nel 1776 a proposito di dominio è quella che si è scrollata di dosso il dominio inglese e mentre tutto il resto dell'occidente in quel periodo era governato da re imperatori Kaiser Tsar Marchesi Conti tutti ereditari in America c'era già un presidente che cambiava ogni quattro anni alla fine del settecento pensa a te con grande orgoglio nell'ottocento hanno fatto la statua di libertà che guarda minacciosa verso l'Europa la terra della freedom mentre l'America è la terra della liberty che differenza c'è? Allora freedom free vuol dire che qualcosa ti è permesso aia capito la differenza? Qualcosa ti è permesso liberty invece è una condizione la libertà della freedom è la libertà che ti ha dato il padrone tu sei libero dalle alle l'ho detto io la libertà della liberty è l'assenza del padrone l'assenza del padrone non c'è padrone che ti possa dare freedom da noi il padrone non c'è questo direttato la libertà ecco adesso tu metti in moto questi due concetti una volta che hai chiarito il tuo punto di vista uomo come potrebbe dovrebbe essere o uomo com'è e ti vengono fuori tante domande in più rispetto a prima adesso vedi questi due concetti di libertà tu a quale tieni? a questo o a questo domanda gravissima me ne rendo conto domanda molto grave perché se tieni a questo diventi pericoloso irritante per qualunque politico insofferente a qualsiasi ideologia insofferente proprio che palle e molto individualista se tieni a questo tante cose te le spieghi no? naturalmente la libertà di stampa non è la liberty of press che non esiste da nessuna parte del mondo è la freedom of press cioè uno stato ti permette di scrivere alcune cose sei libero di scrivere queste cose ma non sei liberty di scrivere queste cose altro parallelo che noi non conosciamo can e may potere il potere nel senso verbo del potere in italiano c'è solo questo verbo qua in inglese è il controllore non dice can I see your ticket eh dice may I see your ticket il controllore che non è colto il controllore però la lingua inglese lo spinge a chiedere queste cose così anche in russo non solo in can è liberty freedom è may capito ci si trova in questo parallelismo qui il il dominio ha già fatto la sua storia se tu ragioni in base all'uomo come dovrebbe potrebbe essere sei nella liberty e diventi molto molto irritabile in qualsiasi discorso di dominio se ragioni in base alla freedom tu ragioni in base all'uomo com'è no? è inutile farsi tante illusioni la speranza è di rosicchiare un pochino di freedom in più rispetto alla generazione precedente naturalmente portato sulla tua vita personale se tu ragioni in base a questo tu applichi questo verbo che è nella tua vita e sei imprevedibile infedele non mantieni i giuramenti sei una figura che non è brutto non mantiene i giuramenti uno dei maggiori sostenitori della liberty nel vangelo di Matteo discorso della montagna esortava i suoi ascoltatori a non mantenere i giuramenti sapete che è stato detto agli antichi di rispettare i giuramenti ma io vi dico di non giurare mai capisci cosa vuol dire non giurare mai vuol dire non esiste più nessun esercito perché il soldato giura non esiste più nessun tribunale perché il giurato nei tribunali c'è il giurato capisci c'è il giurato non esiste più nessun vincolo di obbedienza politico perché il politico giura fedeltà non esisterebbe neanche l'insegnante perché neanche l'insegnante è tenuto a giurare io per la verità quella volta che ho insegnato per 4-5 anni non mi hanno fatto giurare però io non avrei giurato non avrei giurato mi aspettavo un momento di dire se bisogna giurare io non giuro però quante cose crollerebbero di colpo ecco questa è liberty e questo è can questo è freedom e questo tu dirai beh la maggior parte delle persone da quel che ho visto e qui ragionerai in base all'uomo com'è la maggior parte delle persone è incagliata nella freedom nel me sicuramente quindi se io pensassi alla liberty e al can sarei isolato e in pericolo giusto? sarei isolato in pericolo e in base alla legge democratica in una persona assolutamente ininfluente perché sai che nella democrazia che si colloca qua nella democrazia moderna nella democrazia il noi decide tutto no? il noi è molto interessante come figo come pronome eccetera eccetera ha un nemico ha un gravissimo nemico che non tollera che odia a morte e che espelle appena può che è l'io non appena c'è l'io il noi dice fuori dai piedi o diventi uno di noi o tu scompari quindi se tu cominci a ragionare in base a liberty e can tu rischi di essere democraticamente indesiderabile capito? democraticamente indesiderabile ecco gettate queste basi generali torniamo al problema perché la gente sente da sempre il bisogno di essere dominati da sempre da migliaia di anni come mai sentono bisogno di essere dominati e questo bisogno di essere dominati produce gli eserciti secondo Trostoi che tengono in pugno una nazione e questa cosa è estendibile a qualsiasi autorità politica se non ci fosse bisogno di essere dominati non esisterebbero dominatori no? perché l'uomo sente questo bisogno? voi sicuramente ve lo sarete chiesto dai ragazzini c'era nelle scuole un'immagine più o meno a questa altezza che ti toglieva l'incoraggiamento a pensare molto a questa cosa perché sapete che c'era questa immagine che si chiama crocifisso il crocifisso rappresentava la fine che fanno tutti quelli che ragionano un po' troppo sulla liberty ogni tanto l'insegnante con aria minacciosa faceva e tu dicevi d'accordo perché si va a finire così no? ecco ma problema però se quello lì è finito così male 1900 circa 2000 anni fa pare poi non si sa se è vero secondo me non è neanche esistito però comunque sia diciamo 1800 anni fa sono girati questi raccontoni questi Vangeli prima volta che veniva una biografia di Gesù prima loro non si sapeva niente di Gesù fino al 120 c'erano idee un po' vaghe era come un'entità così poi dal 120 cominciano i Vangeli che raccontano la storia di uno che è finito male finisce male lui e nei Vangeli se li avete letti lui finisce male e viene frainteso da tutti i discepoli che lo mollano lo tradiscono e scappano una storia di un fallimento totale con anche poi lui che muore torna un attimo però sente che non è aria e riva via dicendo ci vediamo più tardi mai più visto mai più visto cioè ha fatto sta puntata è venuto giù gli è andata male è andato via sarà andato su dicendo madonna che gente non è più tornato non è madonna che non ha detto così però ha detto perbacco non è anche questo bah ha detto che gente che c'è giù perché una storia così sciagurata non te la sei ancora tolta di testa quindi domande diventano due non perché c'è il dominio ma perché c'è il dominio è la sensazione che ci possa essere qualcos'altro le donne sono due e uno dice beh la statistica non ce l'ho certo se ragioni in base all'uomo così com'è devi per forza ricorrere alle statistiche ti informi c'è un problemino se ragioni in base all'uomo così com'è che l'uomo così com'è è estremamente difficile da descrivere perché sai anche la statistica più accurata poi viene letta e viene fatta prima in base a criteri quei criteri lì non coglieranno mai tutti gli uomini ma coglieranno solo quelli che interessano al gestore della statistica che cambierà nel corso degli anni per cui per quanto tu possa essere oggettivo nel descrivere l'uomo così com'è non ce l'avrai mai davanti il quadro vero di com'è l'uomo soprattutto se poi invece di dire uomo dici gli uomini che sono un plurale plurale esiste in grammatica esiste nella realtà al plurale cioè gli altri esistono in realtà perché ci sei tu tu non sei gli uomini tu sei tu giusto ci mancherebbe altro ma gli altri sono tutti gli altri intorno gli uomini sono gli altri intorno esistono questi altri nella realtà possiamo fare l'esperimento andiamo su fermiamo un passante diciamo tu sei un altro e lui direbbe io no forse è quello là scusi lei è un altro ma no non ne trovi uno di altri non ne trovi uno questo è un argomento forte di Berkeley e di Sartre non ne trovi uno solo di altri però gli altri determinano tutti i tuoi ragionamenti sull'uomo così com'è come sono ottenuti gli altri per addizione la più semplice delle operazioni per addizione uno più uno più uno più uno fanno sei o cinque e formano un gruppo uno più uno più n fanno gli altri 7 miliardi di persone le addizioni le avete studiate a scuola e avete saputo che le addizioni hanno una regola precisa che sarebbe quella che dice che non puoi sommare due oggetti eterogenei cioè tu hai due pennarelli perché sono un pennarello e un pennarello un pennarello più un pennarello fanno due pennarelli un pennarello e un cavallo non fanno due se sommi un pennarello e un cavallo non fanno due fanno sempre un pennarello e un cavallo se poi c'hai un pennarello un cavallo e una mela li puoi sommare quanto vuoi ma risulterà sempre un pennarello un cavallo e una mela ci sono al mondo due persone uguali quindi il concetto di altri, quello che sembrava il modo più oggettivo per ragionare in questi termini, l'uomo così com'è, risulta in modo più, più a forza soggettivo, comunque più ipotetico, più astratto. Come puoi sommare un cavallo, una mela e un pennarello? Facendoli diventare cose. Allora, tu li puoi sommare, hai tre cose, che cos'hai? Tre cose, hai ancora il cavallo? No, non ce l'hai più, è diventata una cosa. Tu puoi sommare 50 uomini e hai una cinquantina di uomini, hai ancora gli uomini? Non ce l'hai più, sono diventati dei vuoti. Ecco, e quando tu ragioni in base all'uomo così com'è, indipendentemente dalla questione nominalistica, se la realtà esiste o non esiste, allora tu sommi gli uomini tra di loro, perdi gli uomini, non ce l'hai più. Quindi non hai lo strumento per intervenire, da un punto di vista proprio logico. Il problema è che se tu pensi in un altro modo, cioè l'uomo come potrebbe essere, come dovrebbe essere, ti trovi in una notevole liberty interiore, perché dipende solo da te, da quello che pensi tu, come l'uomo potrebbe o dovrebbe essere. E ti senti, io, dici, non ce l'ho sta autorità. Però qualcosa a questo punto ti succede. Cioè, se non puoi pensare agli altri in gruppo, perché sono ragionamenti che stanno sempre a vantaggio, sono ragionamenti che si chiamano quelli basati sull'uomo così com'è, non è tanto termine giusto soggettivo, si chiama ideologico. Vedete cosa vuol dire ideologico? Tanti usano questa parola ma non sanno cosa vuol dire. Allora, ideologico è diverso da filosofico. Filosofico sta cercando di capire come stanno le cose. Libero. Ideologico è un termine ottocentesco di Marx. Ideologico vuol dire un modo di ragionare proprio di una classe, di un gruppo sociale. Allora, il gruppo sociale si pone certi presupposti che non devono essere toccati. Per esempio, noi, per esempio, nella scienza, il gruppo sociale più grande che esista, l'umanità, nella scienza tu puoi parlare di scienza solo a una condizione ideologica, che tu hai il presupposto che l'uomo è il più evoluto di tutti gli esseri viventi. Non è dimostrato questo. Qualsiasi gatto te lo smentirebbe. Perché direbbe voi non avete la coda. Quindi se partite già sbagliato. E poi chi pulisce la cassettina chi? E soprattutto chi castra chi? Noi non castriamo voi? Voi sareste più evoluti perché castrate noi? Lo scienziato non può seguire il ragionamento filosofico del gatto. Deve avere un ragionamento ideologico per cui dice noi tuteliamo il nostro interesse di uomini e stabiliamo come principio della scienza la ricerca della verità perché noi abbiamo i mezzi di capire cosa è vero e cosa non è vero perché siamo i più evoluti di tutti. Questa è ideologia. Ecco, parlare dell'uomo così com'è è sempre un discorso ideologico perché non puoi sapere gli uomini così come sono. Di fatto non puoi sapere. Quindi tendono a fregarti ogni volta che parli dell'uomo. Ti parlano di un uomo così com'è. Tu dirai Renzi tende a fregarmi. Rispondi da te. Invece se pensi all'uomo come potrebbe e dovrebbe essere tu diventi un protagonista pazzesco perché da te dipende la storia del mondo. In base a questo punto di vista l'uomo secondo me dovrebbe potrebbe. Ma non è che ci ho pensato ideologicamente. No, lo sento fin da bambino che è sbagliata quella roba lì. Ma non è sbagliata perché tutti perché tanti non la fanno. È sbagliata perché l'uomo non è fatto per quello. Lo sento io, lo sento bene. Ecco, adesso con questa cosa in pugno. Chi è o cos'è che determina l'esigenza del dominio in un sacco di gente, diciamo, non nell'uomo, in un sacco di gente. Gente intesa a gruppi sociali, gente che si guarda gli uni con gli altri, eccetera. Cos'è o chi è? In teologia, come avete sentito prima, è Dio. Perché Dio è il capo di tutto, un maschio anziano, capo di tutto, è maschio Dio. Un maschio anziano, capo di tutto e governa lui. Però, dunque, questa idea qui che il dominio venga da Dio, se ci pensate bene, insomma, non è che stia tanto su. Innanzitutto nei testi non è confermata. Perché se Dio comandasse, la Bibbia sarebbe un libro di eresia radicale, insomma. Perché Dio fa la prima figuraccia a pagina 2. Cioè il Dio onnipotente che dice, gentilmente quell'albero lì non me lo toccate. Ta, si volta un attimo e gli fregano tutta la frutta. Non è quello, che non è lui che comanda. Poi dice, Abele, gentilmente me lo lasci stare. Pagina 4. 2 a 0 per l'uomo. Più avanti c'è la torre di Babele. Dio gli dà fastidio la torre di Babele. Non è che gliela distrugge, gliela blocca. Ma quelli la fanno. E dopo che gliel'hanno bloccata, vanno in giro per il mondo, sempre questi babeliani, a continuare la loro storia di prima. Ognuno con la sua lingua, però sempre ricordandosi un po' di come era prima. Poi non ne parliamo, insomma. Dio, se guardate nella Bibbia, in Ezechiele a un certo punto c'è la storia delle due mogli di Dio. L'avete mai sentita? Ezechiele 37. A un certo punto Dio dice, Dio aveva due mogli, Oola e Oliba. La Oola era proprio un bel tipo, perché guardava gli assiri. Assiro in ebraico vuol dire bellissimo. Gli assiri, gli raccheni, pare che fossero una roba tremenda. Prima li guardava e si eccitava vedendo le loro immagini dipinte sui muri. Poi quando sono arrivati gli assiri, ha cominciato a farsi un sacco di assiri. E Dio soffriva tantissimo. E diceva, meno male che c'è Oliba. Oliba, parlando con la sorella, gli ha chiesto ma come sono questi assiri? Anche Oliba si è messo in giro con gli assiri. E Dio è rimasto da solo. Non è esattamente un capo, capisci? E anche quando manda giù il ragazzo per fare, dice adesso mandiamo giù il ragazzo, facciamo un figurone, no? E glielo fanno fuori, non è che... E attualmente è alle dipendenze di certi cleri. Cioè Dio non può sgarrare, come sapete, no? Cioè se compare una Madonna da qualche parte, che comunque è del gruppo lei, se compare una Madonna, evidentemente arriva il prete che recinge il luogo e dice aspetta, sentiamo prima cosa dice. Perché se dice della roba filo-islamica magari, o filo-ebraica, noi non la vogliamo questa qua. Metti... Poi Dio manda sulla terra Giovanna d'Arco, che ci teneva la Giovanna d'Arco, no? Che fine fa? Marca boia! Dopo un po' manda sulla terra Giordano Bruno, sempre facendo quell'errore di prendere gente con la G, che si sa che non vanno tanto lungo. Gandhi, Che Guevara, tutti quelli con la G. Ecco, e gli fanno fuori anche Giordano Bruno. Lui fatica a mettere su Giordano Bruno a Giovanna d'Arco e gli rifanno fuori. Non è che sia proprio il super capo, diciamo. Poi tanto più che non sai neanche chi è. Dio è una storia che ti raccontano delle persone che vogliono dominarti. Quindi non è... Cioè, come dire, che è Topolino che vuole che tu domini, no? Lo dice Walt Disney, no? E poi, insomma, Topolino ancora ancora, perché Topolino alla fine finisce sempre bene Topolino. Dio no. Anzi, raramente proprio. Raramente. Potremmo continuare con l'elenco, eh? Francesco D'Assisi, eh? Hai voglia. Ecco, non è che venga da lì il capo, eh? Non è che venga da lì. Dici, beh, viene dalla natura. Nella natura c'è il capo, cioè gli animali intelligenti hanno il capo, no? Ma non è vero, l'orso non ha nessun capo, no? La formica sì. Ma la formica o l'ape, sapete che sono queste coscienze, queste anime di gruppo, no? Non è che l'ape singola vota, paga le tasse. L'ape singola è una cellula dell'alveare. Se tu ammazzi un'ape è come se facessi un graffietto a te, praticamente, perché l'alveare è tutto un corpo solo, no? E l'alveare non ha capi. Quindi neanche la natura. Da dove arriva l'astroco bisogno? No? Perché dal punto... Certo, stiamo sempre ragionando in base alla libertà, eh? Se scendiamo alla freedom, queste cose qui, uno è un sostenitore della freedom, direbbe no, ma cosa dici? Invece siamo sulla libertà. Da dove arriva? Da un chi o da qualcosa? Allora, se decidi un chi vuol dire che esistono le razze privilegiate. Sei un tedescoide, diciamo, no? Sei un nazisteggiante. O, o, peggio ancora, un russeggianze, no? Perché i nazisti, sapete c'era quell'intervista a Stalin dopo la guerra che dicevano, domanda, cosa ne pensa di Hitler? e Stalin dopo la guerra diceva Hitler, un direttante. Perché lui ha fatto fuori 8-9 milioni di persone. Io solo prima della guerra 40 milioni. Noi facciamo le cose serie. Ecco, e perché fanno le cose serie? Perché i russi pensano appunto che di essere una razza superiore, no? Tu senti questa cosa e ti dà fastidio. Ma non perché non sei russo. Anche se fossi russo ti darebbe fastidio. Dà fastidio in base a quel potrebbe, dovrebbe essere, diversamente. No? È un sensore quello lì che hai dentro, no? Purtroppo la gente molto abituata alla freedom, che è una forma di dominio, appanna al sensore della liberty del potrebbe, dovrebbe essere. Invece non va appannato, va lucidato questo qua. Questo qui più lo lucidi, più ti dà informazioni interessanti. Sia per capire come vanno le cose, e sia per regolarti nella tua vita, nelle scelte in cui vedi se scegliere in base al meglio, scegliere in base al can. Perché tra l'altro sai che il dominio non è che sia solamente una questione di grandi gruppi. Il potere, intendendo proprio il potere, il potere che determina il dominio, il potere, diciamo, inteso come condizione operativa del dominio, i detentori del potere, nessuno da tanto tempo dice più che sono i governanti, eh? Ma che scherzi, no? Vale ancora il teorema di Tolstoi. Come fanno 6.000 persone a governare 180 milioni? Il potere è diffuso dappertutto, no? Il dominio è diffuso dappertutto. L'annunciatore televisivo esercita su di te un notevole dominio. Come fa? Anche su di sé lo esercita. Come fa? Lui legge la notizia di un terremoto esattamente con lo stesso tono della notizia di una dichiarazione di Gentiloni. Per cui nella tua mente il terremoto è tanto ineluttabile quanto la dichiarazione di Gentiloni. Se il giornalista, se l'annunciatore, se Giorgino ragionasse in termini di liberty, direbbe il terremoto dicendo il terremoto è questo, quest'altro, poi direbbe Gentiloni. E se fa così nel giro di due secondi lui e tutta la sua famiglia sono escluse da RAI per sempre. L'insegnante è un altro detentore di potere. Quando ti fa il 5 maggio invece di farti Balzac? È potere, è dominio. Perché ti fa il 5 maggio la più brutta poesia della storia della letteratura europea? Invece di farti Balzac, Dickens, Dostoyevsky, Gogol, Tolstoi, Byron, perché non ti fa quelli lì? Non sai neanche cosa cazzo ha scritto Byron, che ha mosso la mente di tutto l'Ottocento, no? Invece sai il 5 maggio, fusi come un mobili, da sopire, stette la spoglie, che te ne fai? Serve perché se io ti riempio la testa di tre cicli storici che cominciano con la preistoria e finiscono con la liberazione, uno elementare, uno alle medie, uno al liceo, che lo sai già su dall'elementare come è finita, però due volte ti ricomincio l'elementare dalla preistoria e ti insegno il 5 maggio e ti faccio leggere riga per riga il capolavoro del conte Alessandro Mazzoni, i promessi sposi, che già dal titolo è pleonastico, perché sposo vuol dire in latino promesso, quindi se mi promessi promessi, capisci? che è una storia di dominio come poche ce ne sono, perché è la storia di come un eroe delle guerre spagnole, il bellissimo Don Rodrigo, cerca di strappare una fanciulla interessante dalle grinfie di quel gorilla di Renzo e non ci riesce, il cielo si muove, lo colpisce con la peste, perché lui ha osato andare contro la divisione delle classi, capisci? Perché lui è ricco, lei è povera, questo è un crimine universale, contro cui fra Cristoforo, l'innominato, tutti si ribellano, no? E tu ti impari sta roba, capisci? Perché te le insegnano queste cose qui? Questo libro che sarebbe veramente, totalmente dimenticato se non fosse insegnato a scuola? perché uno degli scoppi della situazione scolastica italiana, come sapete, è di mantenere i poveri poveri e ricchi ricchi. Se ti insegnano Balzac alle medie, tu da grande hai molto più intelligenza. Se ti insegnano Byron alle elementari, tu da grande, anzi da ragazzino, cominci a fare il casino subito. Invece se era il 5 maggio? E tu vai in banca tranquillo, ti fai spennare dalle tasse e non dici niente. Ecco, perché succede questo? Che cos'è che determina questo? Perché dentro non c'è lo scatto? Dicevamo prima delle cose che non si possono ripetere, una però si può dire, con Carlo Giorgio, che una volta di vetrine ne rompevano di più in Italia, adesso ne rompono di meno. Come agli anni 50? Si è tornati agli anni 50, anzi un po' peggio, si è tornati agli anni 40, qualche periodo agli anni 40 in cui non girava l'accelere per le strade. Perché c'è questo torpore? È qualcuno o è qualcosa? Io direi che è qualcosa, è questo qualcosa, questo potere diffuso dappertutto, cos'è che determina il senso di questo potere? Dal punto di vista, diciamo, più basilare della psicologia del dominio è il bisogno. Chi è il bisogno? E non si sa chi è. È un verbo impersonale. Bisogna? Chi è il soggetto di bisogna? E non c'è. Come piove, come il verbo piovere. Piove? Chi piove? Non è chi piove. Piove. Piove acqua? Acqua è il complemento oggetto? Non è il soggetto. Bisogna. Oppure il si sa e il bisogna, che sono due impersonali. Questo è l'inghippo interessante. La gente si fa dominare, perché, potete verificarlo tranquillamente, non perdiamo tempo di mostrare questa cosa, perché senti che bisogna, dell'uomo così com'è, bisogna che qualcuno governi. Perché? Dunque, il bisogna toglie la possibilità di dire perché. Perché se il bisogna, bisogna. Il bisogna è un fatto naturale. Cioè, bisogna c'è nel mondo della natura. Bisogna che l'albero cresca verso l'alto. Bisogna che la pioggia cada verso il basso. Nel mondo della natura c'è questa roba. Ecco, il problema è che il potere è un fatto non naturale, ma sociale. Quindi il bisogna si basa su un prestito dal mondo della natura portato dentro la società. Quindi la risposta non ce l'abbiamo ancora. Perché la risposta, se è il bisogna che governa tutto, e il bisogna produce i dominati, ma il bisogna produce anche i dominanti, che si dividono, come sapete, in capi e leader. Che differenza c'è tra capo e leader? Il capo è bravo. Il capo è uno che tiene insieme le faccende, insomma. Qualcuno deve farlo, lo faccio io. Il leader è, sarebbe lo stronzo invece, il leader è quello che approfitta del fatto di avere la posizione di potere per portarti da qualche parte che gli conviene a lui. Lo dice la parola stessa. Leader, uno che ti porta da qualche parte che decide lui. Non ti lascia tranquillo a casa, come farebbe il capo. Per esempio, qual è una nazione che non ha mai avuto leader? La Svizzera, i nostri vicini svizzeri. Parlate con uno svizzero, avrete la sorprendente sensazione di trovare davanti un hobbit. Non per la statura o per lo sguardo giulivo, ma perché lui non sa come si chiama il suo presidente della Repubblica, capisci? Sa come si chiama il tuo? Sa come si chiama il primo ministro? Sa tutti i miei primi ministri della Francia, dell'Italia, dell'Inghilterra, della Germania. Non sa il suo. Non sa il suo. Perché non gli interessa? Perché tutto quello che c'è da fare in Svizzera è deciso da referendum. E il presidente della Repubblica, cioè il presidente del Consiglio svizzero, federale, cosa fa? Ratifica il referendum per un paio d'anni, poi molla e torna a fare l'impiegato. Non fa carriera politica. Lui molla e torna a fare il vestire di prima. Poi non importa neanche che lo si sappia. Si sa che c'è. Va bene così. Non è una nazione che non ha avuto leader e non ha avuto, guarda caso, nessuna casa bombardata nel secolo scorso. Nessuna casa svizzera è caduta per cause belliche, non avendo mai avuto guerra agli svizzeri. Pensa all'Italia che differenza. l'abbiamo avuto il leader, il duce. Ci ha portato in giro e abbiamo avuto i risultati di disastri. Lui non lo sono mai portati in giro da nessuno. Sono extra comunitarie addirittura perché non sono neanche in Europa, pur essendo al centro. Dunque, produce il bisogno, il capo, il leader, ho trovato il colpevole. Eccolo qua, è il bisogno. Ma abbiamo detto che il bisogno è una cosa naturale trapiantata nella situazione sociale, che è una cosa irregolare. Perché? è avvenuto sto trapianto, questa traslazione, che è una cosa irregolare. E qui c'è un... Boh, non so proprio... Bah, beh, cioè, qui siamo proprio però, siamo dietro le quinte tanto. Sì, sì, qui siamo proprio in sala regia. Qui siamo andati in sala regia. Da dove arriva il bisogno. Allora, pensiamoci. Tanto siamo scagionati, se sbagliamo, perché l'umanità non la conosciamo. Abbiamo detto prima che è un fatto ideologico. Ci teniamo sull'idea sempre dal balcone, guardiamo. Guardiamo, anzi, dall'erostato. Diciamo l'uomo è in base a cui dovrebbe essere. E guardiamo l'uomo come si comporta. Questo punto di vista dall'alto vantaggio. Perché gli uomini si fanno governare dal bisogno? Dunque, la risposta più semplicissima che possa venire in mente è perché vogliono essere normali. No? Perché lo fanno gli altri. Dimmi tu se hai una risposta migliore. Ti viene in mente? Bene. Perché lo fanno gli altri. Allora bisogna essere normali. Se gli altri dicono che bisogna e la maggior parte dicono che bisogna, tu naturalmente pensi, non tu, però l'uomo ordinario cosa pensa? La maggior parte non sono intelligenti. La maggior parte sono stupidi. Però lo stupido è pericoloso. Cioè l'intelligente ci puoi parlare. Lo stupido, se si arrabbia, ti picchia. E non può neanche di, no, non farlo. Perché se fai un discorso complicato, lo stupido ti picchia ancora di più perché non capisci. Allora, se la maggioranza dice così, andiamo bene. Anch'io faccio, no? Così sono del gruppo. Poi dentro mi ritaglierò il mio spazio di io. Però sono dentro, sono protetto. Sono normale. Bene. Poi forse ci siamo. Cosa vuol dire normale? Cosa vuol dire norma? Regola. Regola. Quindi normalità vuol dire regolamentazione, obbedienza alle regole. Io voglio il bisogna e il bisogna decide tutto. Decide il mio, per me, senso di necessità quasi naturale che debba esistere il capo perché bisogna che ci sia. Perché voglio essere normale? Per dentro di me, io voglio farci tutto il posto libero per le norme. Le norme non ci sono in natura. Le norme sono state decise da qualcuno. Se nessuno tira fuori le norme, bisogna trovare qualcosa che qualcuno tira fuori. Quanto a questo, prima di continuare, ci sono degli esempi interessanti nella storia, sia nella storia inventata sia nella storia reale. Allora, tra le bellezze della Bibbia c'è la storia di come nasce la monarchia ebraica. Qualcuno la sa? Una storia bellissima. Allora, gli rei erano senza re. Non avevano re. Arrivati nella terra promessa, che vabbè, non era anche un sacco di problemi, però c'era una cosa buona, che erano senza re. Si organizzavano benissimo da soli. Ma intorno tutti gli altri avevano re. Allora vanno da sto profetta che si chiama Samuele e gli dicono, devi farci il re. Io dico, no, ma siete pazzi? Ma è il re. Ma avete presente? Ma è il re. Cioè volete farvi dominare? Ma questo è contro tutte le leggi. Non c'è nessuna legge sui re nei comandamenti. Noi non siamo, non bisogna avere il dominio. Il dominio sei tu che domini su te stesso, ma nessun altro. Le regole le conosci. Rispetta le leggi che sono tutte. Non mangiare i gamberetti, non mangiare i wurstel, ama il prossimo tuo come te stesso, odia il palestinese. E tutto quanto va bene, non devi avere il re, perché il re ti frega i soldi, ti manda a morire. No, vogliamo un re, vogliamo un re. E Samuele dice, facciamogli sto re, però io non sono d'accordo. Ve lo trovo, trovo uno alto, Saul, e gli fa fare il re. Bella come idea. Vogliamo essere normali, vogliamo essere come gli altri. Il fatto è che poi è successo davvero questa cosa qui. Non si sa di quando sia nel libro dei giudici, non si sa di quando sia. Ho il libro dei re, che si chiama libro dei re appunto perché cominciano i re. Però intorno all'anno 1000, 900-1000, i russi erano nella stessa situazione. Cioè in Russia non c'era potere, non c'era potere, non c'era valuta. La parola rublo, in russo, vuol dire pezzetto, viene dal verbo rubit, che vuol dire rompere. Questi giravano con dei salamini d'oro e d'argento e stabilivano quanto vuoi per questo. Anlese lunga, per esempio. La comessa diceva, tanto così, va bene, è facile tagliare l'oro col coltello. Allora si tagliava e diceva bene così, ancora un po', c'era un altro pezzettino. Questo era rublo, non c'era la moneta. Poi adesso in Russia il termine russo per indicare soldi si chiama yengi, che è arrivato con i tartari nel 1200 perché viene dal cinese yuan, yen, è la variante di yen. Non era una parola russa. Quindi non avevano soldi, non avevano scrittura. Pensa che bello, non potevi dare ordini, non sapevi chi comandava, neanche, c'era anche l'elenco, non c'era il numero di casa per intenderci. E non avevano re. E a un certo punto dice, ma tutti gli altri ce l'hanno. Allora mandano delegazioni di qua e di là a chiedere in prestito dei re. A chiedere una religione, ma non neanche religione. Allora mandano delegazioni a Bizanzio, dai bizantini, dagli arabi, dai romani, per dire com'è la vostra religione, giusto per sapere. Gli arabi non gli è piaciuta l'islamismo, era quello che stavano per prendere, però l'islamismo non si beve alcol. Quindi il russo ha detto no, non mi piace, mi fa fastidio questo. A Roma non gli è piaciuta assolutamente, a Roma gli ha fatto schifo il Papa, ha detto no, questi sono brutti, poi tutti questi ragazzini in giro per le chiese, un po' fastidio, già allora. Gli è piaciuta a Bizanzio, e allora l'ha preso la religione di Bizanzio. Solo che a Bizanzio nessuno voleva fargli re, anche perché pensavano, mazzi questi, non ce li chiedono re. Sono andati a prenderlo tra i vichinghi, cioè i malfattori d'Europa, nel X secolo, vichinghi delle scorribande, quelli che staccheggiavano tutto, la tribù più scalcinata dei vichinghi, Variaghi, sono arrivati questi russi, dicendo, subito bisogna prima aver paura per parlare col vichingo perché picchiava, poi farsi capire col disegno, vogliamo tu che vieni da noi a comandare noi, il vichingo dice, però uno dice, no io vengo, ed è lì cominciata la prima dinastia di Zar, pensa a te, anche lì conferma un po', voglio essere come gli altri, voglio essere normale, e notate nell'uso linguistico, normale vuol dire tranquillo, che non dà fastidio, e viene da norma che vuol dire regola, tu sei a posto, sei alle regole, pensa che chip abbiamo in mente, è quello lì, ma è di natura così, ma guarda, di natura no, di natura no, perché esistono interi libri in cui non c'è il concetto d'autorità, per esempio se vi incuriosisce la cosa, sono due libri della nostra religione, che sono la Genesi e il Vangelo di Giovanni, provate a leggerli, provate a leggerli tranquillamente, il Vangelo di Giovanni è un po', insomma, non è, non è, a chi piace è scritto bene, ma è tipo Beethoven, per cui ogni tanto seguendo Beethoven, boh, e anche lì leggendo Giovanni, boh, boh, comunque, invece la Genesi è bella, Genesi, sesso, violenza, il primo fratricidio è a pagina tre, il primo furto è a pagina due, poi distruzioni, guerre, meravigliose, carriere, folgoranti, ecco, guarda se un po' se nella Genesi trovi un comandamento, un comandamento che sia un comandamento, non ne trovi uno in 50 capitoli, è il libro più anarchico che ci sia insieme al Vangelo di Giovanni, che non contiene, neanche nel Vangelo di Giovanni, nessun comandamento, cioè se girasse solo il Vangelo di Giovanni, tu non sapresti cosa voleva da te Gesù, lavando dei piedi, tu un'altra faccenda, lavando dei piedi, sapete quella, lavando dei piedi cos'è? Quello non è un comandamento, non è un livello di evoluzione, cioè Giovanni Battista ha insegnato Gesù che bisognava aprire il settimo chakra, no? Maschio, quindi ascetta, quindi punta verso l'alto, staccati dalla materia, vai su, e così capisci. Poi è arrivata sta rossa, sta rossa malvivente, insomma un po' così, che è davanti a tutti con un'aria, gli ho detto guarda che Giovanni Battista non ti ha spiegato tutte quante le cose, bisogna ammattizzare i piedi, ma non con l'acqua, col profumo, col balsamo, bisogna entrare in contatto con la realtà materiale, lui ti ha aperto su e ha perso la testa dopo, io ti spiego, dopo che è aperto su, devi aprire giù, la vita che faccio io, dicono che sono una che la dà facilmente, però io lo faccio da un punto di vista programmatico, capito? E in Gesù l'ultima cosa che fa gli apostoli prima di morire, Giovanni, e dice guardate che c'era ragione una ragazza, adesso ve lo faccio anch'io a voi. Questo poi viene distrutto completamente nel cattolicesimo, da quella scena che forse è la peggiore scena cattolica, il rituale della lavanda dei piedi che il Papa va in qualche, per umiliarsi davanti ai carcerati e poi tornare a mangiare caviale nei suoi appartamenti. L'ipocrisia folle, mentre invece quello era un punto altissimo di apertura esistenziale, diventa un gesto di finta umiltà. Aspetta, però questo io ci porta via. Dunque, perché, allora, se la normalità stabilisce il bisogno, da dove viene la normalità? Cioè da dove parte sta facendo il dominio? E lì non fai fatica a scoprirlo, che non è originario, abbiamo detto, perché se c'è la Genesi, c'è la Genesi, vuol dire che è pensabile l'umanità senza regole. Da dove parte? Tu guarda un po', cerca in giro e vedrai che le norme sono in diretto rapporto con la paura. Paura. Paura, uno dice, di cosa hai paura? Aspetta, prima del, cioè la paura precede il di cosa hai paura. Questo è un concetto, all'inizio vi risulterà un po' difficile, tutto è difficile, prima di diventare facile, però poi diventa molto utile. Allora, la sensazione di paura precede l'occasione della paura. Se non mi interessa la bibliografia accoltissima, che è d'altra parte, insomma, non è numerosa, guarda Apocalipto. Parla male di Mel Gibson, ma guarda, Mel Gibson è una mente bella, molto bella. In Apocalipto c'è un discorso sulla paura. Mentre sono a caccia proprio all'inizio, il ragazzo vede della gente spaventata, li guarda troppo e mentre stanno tornando nel paese, il papà lo ferma prima dell'ingresso del paese e dice, tu oggi hai avuto il contagio della paura. Tu hai guardati troppo. Adesso il problema è che se tu hai sentito il sapore della paura, noi dovremmo avere paura di qualcosa. Capiterà qualcosa che ci farà paura, adesso che tu hai paura. E infatti la sera viene saccheggiato il villaggio. Bellissimo quel punto lì, bellissimo. Bellissimo. Poi c'è arrivata la neuropsicologia. L'europsicologia è questa scienza cattivissima. Ci vuole uno stomaco così per fare un neuropsicologo. Perché devi decapitare topolini tutto il giorno. L'europsicologia non intasca la ghigliottina piccola, lo sapete? Perché l'europsicologia studia i flussi di ormoni nel cervello. È utilissima, è utilissima. Sta rivoluzionando la psicologia radicalmente. Ha questa cosa atroce. Cioè per sapere, per esempio, come cambia il cervello nel momento del piacere, si prende il topolino e gli si fa il sollettico. Ma quando il topolino ride, quando il microfonino ha onde corte, sente che il topolino fa il rumore della risata, che il topo ride, ha scoperto il neuropsicologico, mentre ride gli taglia la testa. Poi la sorgeli nell'azotto liquido e la tagli in fettina e guardi subito al microscopio che giro sta facendo l'adrenalina, la donadrenalina, la dopamina nel cervello, no? Per studiare quali parti del cervello vengono attivate dal piacere. Poi il topo viene, perché è facile decapitare praticamente. Non si possono fare gli stessi esperimenti sugli uomini. Perché l'uomo non lo puoi decapitare così in fretta. Magari sta facendo il sollettico fino a che gli taglia la testa e lui ha tempo di spaventarsi. C'è un altro che è più brutto, che è l'influsso della memoria del piacere. Cioè si va dal topolino e si fa il sollettico, lui ride e lo si lascia stare, lo si mette a posto. Lo si mette nella gabbia e fa salvo. Poi si torna il giorno dopo e si fa senza toccarlo. Il topolino vede, si ricorda il sollettico, è con te, gli staglia la testa subito. Ecco, lo studio sulla paura è interessantissimo, interessantissimo. Allora, la paura non esiste in natura. Non c'è in natura la paura. Gli animali non hanno mai paura. Cioè la maggior parte degli animali non ha mai paura. Perché la paura scatta solo in condizioni naturali. Per esempio, noi andiamo via. Qua arriva il gatto della libreria, se c'è. Arriva un topo. Il topo vede il gatto. Il gatto prende il rincorso e il topo scappa. Il topo non ha paura. Se viene decapitato in quel momento non ha il percorso di paura. Ha il percorso di gioco, di intelligenza, di ricerca, di ingegnosità, di lotta, ma non ha paura. Se prendi il topo, gli leghi le zampine e lo metti con legato a un chiodo. E il gatto arriva e decapita il topo, il topo ha paura. La paura viene quando tu non puoi fare, quando tu non puoi fare quello che vorresti fare. Allora viene una paura. Ripeti un po'? Allora, la paura non c'è. Praticamente tu immagina, c'è il fiume del piacere, del cervello. C'è il fiume della ricerca. C'è il fiume del gioco. C'è il fiume del desiderio sessuale. C'è il fiume, è bello che l'ha scoperto i neuropsicologi, del prendersi cura. Il prendersi cura fa benissimo il cervello. Cioè avere le piantine, avere il gatto fa benissimo il cervello. Non c'è il fiume della paura. ma se tu blocchi uno di questi punti, come se blocchi un canale e il canale tracima e invade altre zone, quella è la paura. Cioè la paura viene dal blocco di un impulso naturale o umano. Tu vuoi lottare, non puoi lottare. Cioè senti che bisogna lottare. Sei davanti, sei da solo tu con Renzi. Quindi senti che è il momento di lottare. Senti un'aggressività fisica inspiegabile. Prima di capire. Se tu blocchi quello, arriva la paura. La paura è un'aberrazione. Adesso però ci siamo quasi. Dunque, il bisogno viene dalla normalità. Cioè i capi e i dominanti vengono dal bisogno. Il bisogno viene dalla normalità. La normalità viene dalla paura. Ci siamo? La paura che cos'è? La paura è il bloccare una normale attività. La norma cosa fa? Blocca un'attività. Ci siamo? Allora, la norma è determinata dalla paura, ma la norma produce paura. Eccolo qua. Quindi il meccanismo è controllabile? No, non è controllabile. Fino al momento in cui te ne accorgi. La mente umana è brutta. Guardate, è bruttissima la mente umana. È tortuosa. È cattiva. È autolesionista. Ha dei vizi. per esempio la mente umana è orribile perché se ha un pericolo e l'ha superato, lei si ricorda il pericolo e ha ancora paura. Pensa grava. È stupida. È stupida. Proprio gli animali immagino. Perché non ci sono gli uomini domestici degli animali? Ci sono gli animali domestici degli uomini. Perché i gatti non adottano uomini? O i lupi o i rinoceronti? Perché non c'è ragione. Perché è inutile che ti porti a casa uno specialista di qualcosa che ne sa meno di te. Invece il gatto, il cane, il papagallo, arrivano e dice siete messi male, forte. Se permettete ci lavoro un po' io. Non ha successo, poveraccio, nel corso della sua vita. Quando si parlano tra di loro i gatti con il loro internet mentale o i cani al parco, si fanno delle confidenze estremamente sconfortanti. Quando il cane, fateci caso al parco quando il cane incontra un altro cane. Di cosa si parlano? I tuoi hanno capito? No. Non ancora, no. Neanche i miei. Tu cosa fai? Io insisto. Anch'io insisto. Giochiamo, no? Così. Il gatto lo stesso. Il gatto ti spiega tutto il giorno delle cose, poi ogni tanto ti guarda e fa... Perché? Perché sentono che la mente umana ha dei problemi. Ma ha una cosa bellissima la mente umana. Che quando ha un ciclo, diciamo, autoprodotto, norma-paura, se se ne accorge spezza il ciclo. Ripeti? Allora, se abbiamo trovato che il dominio viene dal bisogno, il bisogno viene dalla normalità, la normalità viene dalla paura, la paura viene dalla norma, norma-paura-paura-norma, e lì è la chiave. Tu non puoi farci niente. Nel momento in cui ti accorgi del rapporto norma-paura-paura-norma, tu sei fuori da quel rapporto lì. Tu sei dentro questo campo energetico fino a che non ti accorgi che funziona. Quando ti accorgi, dici, caspita, ma è questo? Lì sei fuori. Poi puoi tornarci dentro, ma con disagio, in modo innaturale. Dici, vabbè, when in Rome, do as the Romans do. Cioè, and tu, and tu di paura, facciamo per gentilezza che opporre anch'io, per solidarietà. Però lo so come funziona. Quando sono, appena entro a casa, faccio, uh che palle oggi ho sto paura. Mentre prima era normale. Prima era, no? Capito? Cioè l'importante è che se tu riesci a accorgerti di sta roba, sei fuori. Solo che se riesci a accorgerti di quella roba, sei in condizione noè. Condizione noè, cioè diluvio è già cominciato, sei passato a uno stadio evolutivo diverso, di tutto quello che occupa la maggior parte delle conversazioni degli altri, non te ne importa più niente. Cioè senti la gente che parla di politica e pensi, ma come fanno? Ma non vedono che lo fanno tutto loro. E non è una sensazione di superbia, non è superbia. È che semplicemente, la noia non è superbia. Senti questo effetto di noia, che è un'altra cosa neurologica, cioè la cosa più alta che c'è nell'uomo, quella che irrora più di tutto il cervello, è la ricerca. L'animale sano cerca. E il momento di maggior piacere nella ricerca non è quando trovi, ma quando ti accorgi che c'è qualcosa da cercare. Quella è la grande gioia, cioè il picco proprio, no? Picco adrenalina. Il topo entra qua, cerca, cerca, cerca. Cosa cerca? Cerca cosa cercare? Se è malato non cerca, cerca solo riparo e lo trova. Se sta bene, cerca. Cerca cosa? Cerca cosa cercare? Ed è un po' angosciato. Trova cosa cercare? Odore di scarafaggio, vum, sale su. Dopo comincia a ricerca lo scarafaggio. Quando mangia lo scarafaggio, che non è granché, ma a loro piace, quando mangia lo scarafaggio il piacere cala, perché non sta più cercando. ecco, il desiderio della ricerca, cioè la ricerca, può essere bloccata. Quando si blocca produce l'inizio noia e il desiderio di fuga. Per esempio, tu aspetti l'autobus, stai aspettando l'autobus. Prima lo aspetti così, poi il tram non arriva, no? Il tram o l'autobus. Quando il tram non arriva da un po', tu cominci a fare così. Perché cominci a fare così? vuoi andare via. Perché senti che la tua ricerca del tram è bloccata dal fatto che non puoi intervenire sul tram. Allora vuoi andare via? E cominci a sentire questo spasimo dentro, no? Ma non è che fai tardi, è che non puoi intervenire sul tram. Allora la tua ricerca è bloccata, c'è un ostacolo che è l'ATM. Lo stesso sensazione di fastidio senti quando hai colto quel meccanismo norma-paura-paura-norma, senti in quel momento quando l'hai colto nei discorsi delle altre persone sulle questioni di potere, sui leader o sui capi, su quale partito è meglio. Naturalmente ti accuseranno di essere un qualunquista, no? Oppure un apolitico, un impolitico. E infatti è vero. Verissimo. Antipolitico, direi. Ma antipolitico sarebbe già politico, già una cosa politica. Partecipa comunque alla politica. Invece diventi, assumi un atteggiamento, diciamo, naturalistico nei confronti della politica. Hai presente quei documentari dove c'è Attenborough che dice ecco la talpa nella sua vita normale. Adesso sta scavando. Sta scavando perché sta per incontrare la sua talpa gemella. Adesso inquadrate. Ecco l'incontro. E vedi questo atteggiamento naturalistico verso la natura. Quello che cerca un po' di simulare è la famiglia Angela. Lo stesso senti tu di fare nei confronti delle persone che si occupano di politica. Per cui li ascolti con grande interesse e assisti ai loro comportamenti nel loro ambiente naturale. Che non è più il tuo. Perché è avvenuto un passo evolutivo. In quel momento tu sei fuori dal dominio. In una posizione pericolosissima. molto studiata nei libri antichi. Perché era proprio l'ideale massimo. Primo grande studioso, primo super anarchico, Mosè. A un certo punto lui ha il Faraone. Il Faraone con la sua paura. Il Faraone cosa dice? Il Faraone si vede che era più limitato. Perché dice? Loro non usciranno da qui. Perché fuori non c'è niente. Questo discorso il Faraone. Lui pensa. Io non esco perché per me fuori non c'è niente. Anche per loro non c'è niente. Mosè gli fa capire. Dice. No. Fuori c'è un sacco di roba. Ma tu non ci arriverai mai. Perché l'acqua del passato. Per loro l'acqua è il passato. Il l'acqua del passato ti tiene indietro. Tu sei nel dominio. E il Faraone ognuno c'è dentro di sé. E si molla quando tu passi alla fai eccessiva. L'altro è l'imitatore fissato di Noè. Cioè di Mosè. Che è Gesù. Che vuole fare tutto quello che ha fatto Mosè. Tutto dall'inizio alla fine. Salvo che sul piano sessuale. Perché Mosè aveva l'amante e Gesù no. Mosè stava nel libro dei numeri con una nubiana. Cioè con una. E non si sa però se. Non è sicuro. C'è qualche voce. Che stavano insieme. però. Invece sul Mosè invece. Numeri. Libro dei numeri. Capitolo undici. E ora comincia. Il capitolo sulla manta di Mosè comincia. Mosè era l'uomo più buono di questo mondo. Cioè già mette le mani avanti. Come dire. Sì c'aveva la negra. Però. Insomma era comunque. Era bravo. Insomma. Era bravo. Ecco. Loro sono quelli che vanno verso questa anomia. Questa situazione senza. Cioè senza leggi. Dove a un certo punto arrivano le leggi. A Mosè. A un certo punto. Però non nella Genesi naturalmente. Nell'Esodo. Le leggi. Uno dice. Eccolo di il dominio. E prova a leggerne una. a leggerla prima. Io sono il Signore. Io sono Yahweh tuo Dio. Yahweh lo Ica. Io sono Yahweh il tuo Dio. Che ti ha liberato dalla casa degli schiavi. Primo comandamento. Io sono Signore. Io sono Yahweh Dio tuo. Che ti ha liberato dalla casa degli schiavi. Tu sei fuori dalla dimensione del dominio. Non prendere un Dio che non fa questo. quindi non rovinarmi il lavoro. Ho fatto una fatica pazzesca per tirarti fuori dalla casa degli schiavi. Dalla tua testa per tirartela fuori da lì. Non tornarmi indietro. Questo non è l'inizio di un codice di legge. Questo è l'inizio di un addestramento alla disobbedienza. La seconda. Infatti. La seconda cosa. Ma tutti quanti comandamenti. Ma tutti quanti. Non farti immagini. Secondo comandamento. Che è da noi totalmente ignorato. Non farti immagini o scultura di qualcosa. Né di quello che c'è in cielo. Né di quello che c'è in terra. Cosa vuol dire? Dice. Non farti la figura. La Madonna. La Madonna. La non pensare di sapere chi sei. Cioè la foto te la puoi fare. Ma non farti la foto di quello che sei dentro. Non dire mai io so che sono così e quindi da questo. Mai questo. Perché altrimenti ti fai un'immagine che diventa subito una scultura. Diventi come la moglie di cosa? Di lot. Diventi una statua. Questi qui non sono leggi. Questi qui sono territori al di fuori del faraone. Gesù non aveva il faraone perché a quei tempi il faraone era già nero. Molto nei guai. Gesù il faraone era nei guai fino al collo. Dopo Cesare, Marco Antonio e la Cleopatra era in crisi nero. Gesù l'ha cresciuto in Egitto. Gesù ha una parola tecnica greca che è cosmos. Tradotta mondo. Che sembra che Gesù c'era su con gli alberi, con i sassi. No. Cosmos vuol dire sistema. In greco. Sistema. Non è la yule. Yule sarebbe la natura. Invece cosmos. Gesù dice io vi ho tirato. Io come Mosè vi ho tolto dall'Egitto. Io vi ho tirato fuori dal cosmos. Voi non siete più nel sistema. Il cosmos non ha nessun potere su di me. Famosa frase Gesù. Il cosmos non ha nessun potere su di me. E così spero di te. Non possiamo farci niente. Dice il cosmos c'è. Io vi ho tolti dal cosmos. E adesso mi rimando nel cosmos. Con una differenza. Io praticamente sono l'intelligent service. Io ti ho tolto dal tuo normale condizione di cittadino di un paese occidentale. Ti ho fatto diventare 007. Adesso ti camuffo da normale. Ti invio in missione. Ti riporto dentro il mondo normale. Ma tu non apparterai mai più al mondo normale. Tu cominci a vivere in segretezza. Questa è la teoria di Gesù. È una spy story praticamente che comincia. Tu cominci a vivere in segretezza. Sei nel mondo ma tanto non ti riguarda. Sei lì a vedere quello che succede. tipo giungla. Vi mando come pecore tra i lupi. Siate innocenti come colombe e astuti come serpenti. 007 in persona. Innocente come una colomba e astuto come un serpente. Come dire? Da quando vieni fuori dal dominio comincia la guerra. Non proprio guerra. Comincia il conflitto. O sei nel dominio o sei nel conflitto. Il fatto è che quando senti per apertura di finestra uno spifferino di conflitto da fuori dentro l'aria ti sembra veramente soffocante. A quel punto il mondo si divide in prima e dopo la scoperta. In liberty, can, o in freedom, may. E vedi. Grandissima gioia, grandissima gioia è trovare una persona fine. Molto rara. Molto rara. Molto rara ma non rarissima. Solo molto rara. Momenti interessanti non sono... Beh, momenti brutti per questa gente sono i periodi di dittatura. Ovviamente. Questo momento è interessantissimo. Noi siamo adesso nell'Europa successiva alla guerra fredda. È finita la guerra fredda. Il mondo è peggiorato moltissimo da quando la guerra fredda è finita. La società è diventata molto più corrotta dopo la fine della guerra fredda. Molto più egoista. Molto più conformista. Molto meno equa. molto più intollerante. Pensa a quando c'erano i russi. No? Cattivi russi. Però ti facevano una curiosità i cattivi russi. Quando incontravi un russo pensavi c'era ma tu sei un russo. Sei un bulgaro. resistete. Lo fa toccare. No? Quindi siete bulgari. Mi interessava tantissimo. Era proprio andare a... c'era una tolleranza, un'apertura dietro la nevrosi di facciata. Adesso non c'è più. Adesso c'è un'intolleranza terribile verso le cose. Un appiattimento, un conformismo. Ecco, in questi momenti il dominio assume tutta una forma tentacolare. Molto difficile da gestare. Perché vedi dappertutto. Adesso il dominio lo trovi proprio nel vicino di casa che controlla nella... non so... lo trovi più che... ecco, più che nel tono diciamo presuntuoso di quelli della Lega il dominio lo trovi nello sguardo critico intollerante del 5 stelle. Cheppure è contro. Cheppure è contro. Però senti che c'ha un'autorità che sta in qualche modo rodendoti anche a te. Lì lo senti. Se sei dentro la freedom e il mei, naturalmente è un periodo d'inferno. Questo infernale. Se sei dentro la Liberty e il Ken e hai capito il rapporto normalità-paura, questo è un periodo divertentissimo. Solo che ti viene una voglia di fare cose eccezionali che non puoi trattenere. Non puoi trattenere. Ed è l'unica arma che hai tu. Cioè più splendi e più sei fuori dal dominio. Attenzione eh. Non più sei illuminato e più sei fuori dal dominio. Perché essere illuminati non c'è. Non c'è tanto. Basta che sei dentro e ti metti sotto il riflettore di turno. Gestito da quelli a cui fa comodo. Guarda da questo punto di vista questo è un periodo per chi è dentro il dominio. È orribile. Questo è il periodo in cui già da una ventina d'anni nella cultura. Non so se vi siete accorti. Ci sono i leccaculo che vanno avanti con una rapidità. C'è un'esagerazione di carriere di leccaculo dappertutto li vedete. Dappertutto. E le persone che pensano un po' diverse sono tiranneggiate in un modo che non è mai capitato prima. Cioè Mussolini li mandava in esilio, no? Al confino. A Ponza. Oh! Li mandava al mare tutta la vita. Ma uno diventa subito per forza tifascista? Subito diventa tifascista. Se non posso venire via da Ponza? Tu mi garantisci che devo star lì per mesi? Vado. No? Immediato. Invece adesso è il tiranneggiamento dell'etterodosso che è terribile. Se sei dentro il dominio è un momento da Nerone. Cioè il suicidio è una buona soluzione. Anzi c'è da essere fieri, come dice Petronio, di uccidersi sotto Nerone. No? Questo è un altro fiero. Se sei fuori dal dominio sei in uno dei più bei telefilm, uno dei più bei serie a puntate di storia naturale che era che era mai un'idea. Perché vedi di tutto in questo periodo. Uno spettacolo invidiabilissimo. I nostri nonni non vedevano così tanto. Così tanto di brutto. Ma il brutto ha un suo fascino. Quando tu stai fuori. E l'idea sempre di poter fare un voletto ogni tanto per tirar fuori qualcuno dalle grinfie di qualcun altro ti fa sentire anche in una posizione quasi angelica. Ecco. Basta. Vi ho tormentato abbastanza. Grazie mille. Abbiamo qualche domanda per Igor? Scusi, non ho capito Norma Paura. Se lo puoi rispiegare. Grazie. Norma. Normalità. Io sono vittima del bisogno perché voglio essere normale. Ho bisogno di norme. Perché ho bisogno di norme? Perché in me se no c'è una paura particolare. Le norme mi tengono all'interno di un territorio dove non dovevo avere paura. Se no qua non c'è più religione. Ecco. Il fatto è che Norma è una regola frenante. E la paura è prodotta dal freno messo a un tuo spontaneo bisogno. Quindi la paura è prodotta dalle norme. Le norme producono la paura. Cioè le norme servono a difenza della paura. Ma in realtà la producono anche. Questo è un fatto che si nota anche in generale nella tecnica di informazione dei centri dominanti. Allora una caratteristica del dominante, della persona che detiene qualche potere temporaneo sempre, è quello di darti qualcosa che ti instupidisce facendoti credere che tu lo voglia. No? Cioè l'entertainment televisivo, per esempio, no? È una cosa... Provate, provate a guardare la televisione. Per curiosità. Provate a guardare la televisione dalle otto in avanti di sera. Guardi il notiziario tv, notiziario, e tu senti che già ti rallenta perché fanno delle pause incomprensibili. Lentissimo, lentissimo. Delle pause lunghe, delle cose superficiali e poi il silenzio. E lì ti rallenta tutto. A parte di dire sempre uguali. Poi c'è la parte intrattenimento, no? Che ti viene data e che scioglie il tempo. Tu sei dentro lì, il tempo ti passa e sono già le nove e un quarto e sei accorto. Perché te l'ha mangiato. Tu non c'eri. Sei stato inghiottito dentro. Questo qui ti viene dato a posto per farti del male. Ma viene detto che è molto popolare. E uno ci crede e lo vuol vedere. Capito? E si produce questo meccanismo qua. Per cui tu desideri, finisci per desiderare quello che ti fa male. Ecco, questo è un sistema di potere. Quando si arriva all'interno di questa zona, è tutto pieno di questi... Causa che diventa effetto. Effetto che diventa causa. Per cui la norma ti protegge dalla paura, ma la paura è prodotta dalla norma. E tu non sei dentro... È più grande di te questa cosa. Tu sei abituato a pensare se questa è la causa e questa è la causa. Questo è l'effetto, questo è l'effetto. Se ti si ribalta in continuazione non sai più cosa pensare. È una perturbazione mentale. appena sei fuori, la vedi e dici ho capito cos'è. Adesso mica ci torno più. Scusa, è morto Totò Riina. C'è un detto, è meglio comandare che futtere. No, è perché la paura... Io sostengo che per essere santi, oppure capi mafia, non bisogna avere paura della morte. Ah, certo. Sì, all'interno della situazione di paura, il capo è quello che gestisce paura. Cioè vuole che tu... Fai in modo che tu abbia più paura di quanta ne ha lui. per poter gestire paura deve essere una persona che se ne intende molto di paura, che ne ha avuta tanta e che in qualche modo la ama. Ama l'idea che tu ti possa produrre... come altri amano l'idea di aprirti la mente o altri amano l'idea di portarti a letto. Invece questo qui ama l'idea di farti avere paura. naturalmente può funzionare solo all'interno di un sistema, di un cosmos, di un faraone. Faraone vuol dire, non è una persona, faraone vuol dire grande casa in egiziano. All'interno del palazzo, diciamo. Può funzionare solo all'interno lì. Al di fuori, da lì, non funziona più. Se uno continua a farti scherzi a casa, buh! Buh, buh, piantala! Non è che ti cominci a fargli decidere cosa compriamo oggi. No? Grazie. Grazie.